Gentili telespettatori, buona giornata. Torniamo ancora su sta autonomia, che i leghisti si immaginano chissà che cosa, visto che la secessione non l'hanno potuta fare, il federalismo non l'hanno potuto fare, e facciamoci sta autonomia, quello che ci rimane. Con l'autonomia i leghisti pensano di smettere, di dare i soldi a Roma, Roma ladrona, la Lega non perdona, dare i soldi a Roma che poi le dà alle regioni del sud. L'idea è questa, che i soldi del nord rimangano al nord, non diamoli al sud, che si arrangino e che vadano a lavorare. Questa è l'autonomia che vuole la Lega. Se no non si darebbero tanto da fare. L'intenzione è che i soldi del nord rimangano nel nord, il 99%. Poi qualcosa va a Roma ladrona, ma la Lega non perdona, così può dare proprio pochino alle regioni del sud. Naturalmente, detto questo ai leghisti, loro dicono, non è vero, non è vero, l'autonomia non è quella, l'autonomia aiuta le regioni del sud. Sì, vabbè, no? Girano la frittata, no? Il nodo principale però della contesa riguarda la definizione dei livelli essenziali di prestazione, su cui calcolare i trasferimenti di fondi allo Stato, a una singola regione, per coprire la competenza ceduta. Allora, l'autonomia è una roba un po' complessa. Vorrebbero fare sulla falsa riga della provincia autonomo di Trento, la provincia autonomo di Bolzano, che alla fine è come se fossero degli stati a sé. Perché lì realmente la gran parte dei soldi che loro producono e pagano di tasse rimane lì. E hanno molte deleghe che le regioni non hanno, cioè hanno dei livelli di autonomia di un certo tipo. Pochi soldi mandano a Roma. E' così un incontro preliminare con uno scambio di opinioni sulla bozza in sette articoli presentata dal ministro per gli affari regionali, Roberto Calderoli. Il confronto si svolge nella sede della conferenza delle regioni riguardo a un dossier, dei dossier delicati e controversi della legislatura appena iniziata. L'introduzione di un percorso di autonomia differenziata per le regioni che ne facciano richiesta. Come dire, le regioni del nord ne fanno richiesta e fanno l'autonomia, quelle del sud, chi se ne frega, facciano quello che hanno voglia. Tanto soldi non ne hanno, che facciano pure l'autonomia, ma chi se ne frega. Ecco, naturalmente se voi chiedete ai leghisti vi rispondono, al sud devono sviluppare il turismo, sai che soldi appalate che fanno? Poi non li mandano a Roma, Roma ladrona, e se li tengono loro. Quindi i leghisti ragionano sul quello che gli piacerebbe che sia, se al sud, se, 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 ma la realtà è un'altra, non con i se, la realtà è quella di oggi. Non credo realmente che la Meloni sia per le autonomie, non credo proprio. Poi potrebbe esserci una sorta di finta autonomia, non so come la mini flat tax, la mini riforma delle pensioni, potrebbe arrivare anche una sorta di mini autonomia. Che cosa vuol dire? Visto che alla Lega interessa mettere queste bandierine, cioè realizzare le promesse elettorali. Hanno promesso di cancellare la legge Fornero, non ci sono i soldi, allora la cancellano, ne fanno un'altra che è una mini riforma, cioè molto simile alla Fornero, ma un po' meno. Così, per far capire all'elettorato fatto. E così la stessa cosa con l'innalzamento del contante, con tante altre cose, e l'autonomia potrebbe rientrare anche lei in queste mini riforme per far vedere all'elettorato che sono state fatte. Quindi la Meloni potrebbe accettare una sorta di autonomia che in realtà non è niente di diverso da quello che c'è oggi, qualche piccola sfumatura. Ma l'autonomia che hanno veramente in mente, Lombardia, Veneto, Piemonte, non credo che la Meloni la farà mai. Quell'autonomia che dice tutto quello che noi paghiamo di tasse rimane qua. Che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che queste regioni che stanno già economicamente abbastanza bene, vedrebbero aumentare la loro ricchezza regionale, mentre le regioni del sud verrebbero sempre più diminuita le loro possibilità economiche. Andrebbe ad aumentare la differenza tra il nord industriale e il sud, dove non c'è quasi niente. Quindi l'idea, il chiodo fisso dei leghisti è questo, che i soldi del nord rimangano al nord. Perché darli a quelli lì giù? Questa è sempre la solita ideologia che oggi è camuffata sotto altre cose, sotto altri nomi. Ma sono sempre gli stessi, sono sempre quelli del Bossi in canottiera. Giorgetti era uno che era sempre a casa di Bossi. Quindi Giorgetti era un fedelissimo del canottierato Bossi. Cosa credete? Che Giorgetti abbia cambiato le sue idee oggi? Sono le stesse che aveva i tempi di Bossi, ma camuffate da politico romano acquisito. Però l'idea è sempre quella, Roma ladrona, il nord che produce, dividiamo l'Italia. Non ci sono altre spiegazioni. Perché la Lega è fissata con questa autonomia? Proprio per questo. Essere autonomi e avere più soldi in cassa per non mandarli a Roma, che poi Roma li manda anche alle regioni del sud. Perché così tutte le regioni mandano i soldi allo Stato centrale, e lo Stato centrale poi ripartisce questi soldi alle regioni, secondo dei criteri. Beh, il primo a lamentarsi, per esempio, è il governatore campano Vincenzo De Luca. Naturalmente questo crea un solco tra le regioni del nord e quelle del sud. L'autonomia proposta da Calderoli non semplifica niente, ma crea solo caos alla fine. Serve una sburocratizzazione radicale per far ripartire imprese e investimenti. Ribadisce De Luca. Fortemente contrario al progetto, anche il collega Dem pugliese Michele Emiliano, mentre tra i governatori di centrodestra si segnala il distinguo del calabrese Roberto Chiuto di Forza Italia. Vedremo che cosa succederà. Secondo me questa autonomia la Meloni non la vuole, o se le va bene è perché non è una vera autonomia. Un po' come la flat tax, non è la vera flat tax, è quella che vuole introdurre Salvini, ma è solo una rimodulazione delle aliquote. Quindi se vogliono fare una finta autonomia per dire l'abbiamo fatta, allora la Meloni dirà di sì. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie.